ciao a tutti oggi prepareremo la torta golosa kinder bueno il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa ingredienti sono farina di tipo 00 fecola di patate zucchero yogurt bianco olio di semi uova lievito per dolci vanigliato vanillina sale pasta d'arancia o la scorza grattugiata di un'arancia nutella nutcao e kinder bueno diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le uova ed azionare il bimbi con il cestello al posto del misurino per 6 minuti 37 gradi velocità 4 aggiungere la farina la fecola la fecola l'olio lo yogurt la pasta d'arancia la vanillina il sale e il lievito ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 4 versare il composto in uno stampo quadrato da 26 x 26 centimetri ben imburrato fare delle strisce orizzontali e verticali prima con la nutella e poi con la nutcao cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 45 minuti fare la prova a stecchino la torta è cotta lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo decorare con nutella nutcao e kinderbueno e servire torta colosa kinderbueno grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti